ragazzi non credo serva commentare più di tanto le immagini che avete appena visto in quanto parlano da sole lei è la nuova mio mini plus la console da retro gaming portatile definitiva vi dico la verità io me la sto portando dietro in tasca in quanto è davvero tascabile questa piccolina da un paio di settimane e la trovo fenomenale amo i videogiochi lo sapete questo canale è nato con i videogiochi e proseguirà sempre anche con i videogiochi e quando ho visto questa piccolina in vendita non potevo non provarla in quanto è davvero fenomenale e se intendete acquistarla anche voi vi ricordo subito che trovate il suo link da questo nel mio canale terra un ufficiale tech best years linkato qui sotto in descrizione video entrateci cercate mio mini plus la troverete al suo prezzo più conveniente ma definirla console da retro gaming riduttivo si tratta di un vero e proprio pc con sistema operativo linux personalizzato ovviamente con pulsantiera da console portatile e mi sembra abbastanza lampante che sia ispirata ai primi mitici game boy e io l'ho scelto proprio di questa bellissima colorazione viola trasparente stupenda ragazzi in quanto il mio primo game boy color era proprio di questo colore ma è disponibile anche in altre colorazioni un classico bianco grigio come il primo vero game boy è nero trasparente li trovate tutti ricati nel mio canale telegram al sistema operativo linux bellissimo nell'interfaccia ci sono anche i temi personalizzati e c'è anche un tema molto carino che vi lascio scoprire una volta che l'acquisterete si aggiungono 128 megabyte di ram è un processore arm cortex a7 ovviamente non stiamo parlando di una potenza brutta da console di ultima generazione ma per emulare le principali console del passato va più che bene e anche con la playstation 1 come vi sto facendo vedere in queste immagini non c'è nessuna incertezza l'emulazione è perfetta anche l'audio è davvero molto buono questo speaker in basso a destra potrete anche effettuare dei salvataggi specialmente in quei giochi non tanto quelli della playstation 1 ma magari quelli del nes o console più vecchie che non li contemplavano inizialmente quindi effettuare salvataggi e andare poi a ricaricarli in un istante come in questo caso ragazzi perdonatemi se non sto giocando benissimo però ovviamente sto giocando dietro alla telecamera faccio il possibile però come vedete la fluidità la qualità dell'emulazione anche il display è bello e questa piccolina è proprio la scelta giusta per chi vuole una console portatile che entri in tasca leggera con tanta autonomia e che non sia troppo grande troppo pesante ingombrante e l'estetica è bella ma anche molto funzionale con un grande display 3.5 pollici dimensioni perfette quasi senza cornici i colori sono bellissimi e molto luminoso anche sotto la luce diretta solare forse avrei preferito una finitura opaca invece che lucida ma così è più bello diciamocelo i pulsanti hanno la giusta dimensione abbiamo due anzi perdonatemi quattro grilletti nella parte posteriore personalizzabili in base al videogioco uno sportellino che una volta aperto rivela la batteria da 3.000 miliampere che garantisce 5 soli di autonomia removibile e sostituibile un po come vecchi gameboy e i vecchi telefoni qui però fortunatamente non abbiamo delle classiche batterie stilo ma una batteria lipo ricaricabile tramite la porta usb type c anche con un comunissimo power bank come il mio se vi interessa proprio questo modello nello specifico con cavetteria già integrata comodissimo ve lo lascio linkato nel mio canale telegram costa pochissimo questa consolina arriva a casa vostra con oltre 5000 giochi preinstallati potrete divertirvi per tantissimo tempo se poi vorrete installare altri giochi che avete comprato e ne avete la rom potete farlo tranquillamente vi basterà copiarla nella micro sd e avviarla e c'è anche la connettività wifi comodissima per un po di funzioni possiamo infatti connettere questa consolina a un monitor esterno in mirroring o con un cavo hdmi e possiamo pensate giocare con un controller separato wireless oppure giocare con i nostri amici in modalità lan o wireless e tutto ciò è permesso come ho accennato all'inizio video dal sistema operativo linux super personalizzabile modabile insomma potete farci quello che volete oltre che per i videogiochi potrete utilizzarla anche per foto video musica applicazioni programmi tutto quello che volete parlando dell'emulazione vera e propria è perfetta e questi sono gli emulatori preinstallati che vanno dal mame al ness al game boy color game boy advance fino ad arrivare alla playstation 1 ora mi sto mostrando un po dei miei giochi preferiti che ho salvato è che sto provando in questi giorni e la loro emulazione è perfetta in ogni caso davvero ragazzi è anche possibile giocare ai giochi in verticale quelli della sala giochi inclinando la consolina non è comodissimo però è fattibile bella trovata giochi come tecken 3 come saipon filter tra l'altro uno dei miei giochi preferiti e spero di averlo pronunciato nel modo corretto comunque ci giocavo tantissimo da ragazzino superstation 1 girano che è una meraviglia e se volete ancora di più non la vi vieta di installare nuove rom nuovi emulatori su questa consolina in dotazione avrete infatti una chiavetta per collegare la micro sd al vostro pc oltre a un cavo usb type c di ricarica quindi avete tutto l'occorrente per divertirvi per tanti anni ma ora amici la domanda delle domande quanto costa questa mio mini plus il suo prezzo in realtà è anche decisamente accessibile infatti acquistandola da amazon tramite i link che vi lascio nel mio canale telegram lo trovate linkato nel primo rigo qui sotto in descrizione video il suo prezzo dicevo si aggira tra i 100 e 150 euro in base alla colorazione all'offerta disponibile nel momento specifico io l'ho acquistato attorno ai 120 euro ma a volte viene scontata era segnalo subito su telegram l'offerta attorno ai 110 euro quindi il prezzo secondo me è più che onesto super accettabile per una console di questa qualità ma ora ragazzi di temi voi cosa ne pensate di questa mio mini plus la trovate una bella console da retro gaming o preferite qualcos'altro beh dite la vostra lasciando un bel commento qui sotto e per dubbi o domande non esitate nel chiedere sono come sempre a vostra totale disposizione ricordo che se volete acquistarla subito in offerta e in sicurezza evitando rivenditori truffaldini furbetti perché ci sono dei siti stranieri che vendono queste console portatili ma in realtà vi arrivano prodotti diversi da quelli ordinati quindi se volete farlo in sicurezza entrate nel mio canale telegram tech best deals perché la trovate linkata lì in tutte le sue correazioni e appena c'è un'offerta un coupon e lo segnalo subito buon gaming a tutti anzi buon retro gaming io ora vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video sempre quello vogliate sempre qui salite stutec alla prossima ciao amici via ciao 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 ciao